Ci sono stati anche quattro casi in Italia, quattro contagiati, ma sono guariti. Secondo la rivista medica Lancet, nel 2016 dovrebbe diventare un'emergenza sanitaria... Buongiorno, sono Gian Paolo Del Nascone e parlo da Faloppio. Questo è il 25 gennaio 2016. Voglio dire qualcosa su Be Hazard. Non so se vedi Be Hazard. Questi sono i record di Be Hazard. Be Hazard è una band da USA, New York. E questo è un album molto buono, State of the World Address. Ho comprato questo album da un ragazzo in Como, anni fa. e questa è una band molto buona con un messaggio positivo da USA. Grazie a tutti!